Ecco che cosa capita a chi disobbedisce a Medunamun, sacerdote del faraone! Assicuratevi di seguire sempre la sua parola benigna! Cosa che avete? Le vostre fattorie, i vostri beni, i vostri figli! Dovete la vostra stessa vita... Cosa che hai? Cosa che hai? Cosa che hai? Cosa che hai? Cosa? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti